Ciao, sono Ilaria Venanzoni, un'archeologa della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paisaggio delle Marche. In questo video continuiamo a parlare della città romana di Suasa, presso l'odierna città di Castellione di Suasa, e in particolare di uno dei suoi edifici più famosi, che è la Domus, cosiddetta Domus dei Cogliedi, un'abitazione di epoca imperiale, costruita su precedenti strutture di epoca repubblicana e caratterizzata, fra le altre cose, da una grande ricchezza dei suoi pavimenti realizzati quasi tutti a mosaico. In particolare parliamo di un mosaico che è riprodotto all'interno di questa pubblicazione, Archeologia nelle Marche, dalla preistoria all'età tardontica, pubblicato nel 2004 e curato dal professor Mario Lunica, una sorta di atlante dell'archeologia marchigiana, all'interno del quale è riprodotto questo mosaico con il tema di Leda e il Cigno. Questo mosaico che cosa ci racconta? Ci racconta appunto questo mito in cui Giove, per potersi accoppiare indisturbato con Leda di cui si era invaguito, si trasforma appunto in Cigno. Come facciamo a capire da questa immagine che il Cigno in realtà non è un vero Cigno, ma è Giove sotto mentite spoglie, perché il mosaicista inserisce un piccolo indizio, un fascio di fulmini stilizzato, che è la caratteristica principale, l'attributo principale appunto del pare degli dèi. Questi ed altri mosaici sono visibili all'area archeologica di Castellone di Suasa, che potremo tornare a visitare dopo questo periodo, ma per il momento rimaniamo in casa. Grazie. Grazie.